Il MOSE come simbolo delle potenzialità e dei problemi di tutte le grandi opere italiane. Proprio al sistema di dighe mobili è stato infatti dedicato il convegno del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che è partito dal problema più evidente, l'Italia è il paese europeo più lento nella realizzazione delle opere pubbliche. Le cause, problemi legali a parte, sono la burocrazia, la collaborazione a volte molto scarsa tra Stato, Comuni e Regioni e non ultime la carenza di organico e la scarsa digitalizzazione degli uffici tecnici. La realtà è che il tempo medio di un'opera superiore ai 100 milioni in questo paese è di 15 anni ed è assolutamente inaccettabile. Una volta entrate in funzione, le grandi strutture e il MOSE primo tra tutte hanno poi bisogno di continue messe a punto e integrazioni, aspetti che però rischiano di passare in secondo piano. Spesso si fanno le opere pubbliche e poi ci si dimentica che vanno manutenute, che vanno gestite, che vanno migliorate e questo è il caso classico del MOSE. L'attenzione è ora rivolta al nuovo governo e al piano Next Generation U, che mette a disposizione dell'Italia più di 200 miliardi proprio per il potenziamento delle infrastrutture. Credo che il momento sia importante, ma lo è se si affrontano i nodi irrisolti. Se così siamo di fronte a una svolta epocale, altrimenti la cifra che verrà dall'Europa non sarà spesa nei tempi previsti.